Eravato obbligato. Ha visto che cazzo di spada che c'ha quella? No. Eh, quella è una maga. Eh, non ho capito. Ho capito, ma c'è una spada che quando tutta questa cosa... Eh, le chiedo di venire un attimo qua. Chi? Eh, ma sono cazzi tuoi. Esatto. È un mago. Mago? Sono un po' inutili i maghi, eh, però. Ssh, resti verano. Però c'è una bella spada, eh. Non lo dire, non lo dire, concordo. Io non sono un mago, ma ho un trucco che funziona. Eh, anch'io ho un piano. Per farli sparire? No, sparisco io. Voglio appenderli a testa sotto. Eh, vedi che può essere un'idea, signora Alessandra. Ho una bella spada, sincero. Mi piace, complimenti. Salve. Salve, salve. 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 Sì, facevo noi complimenti per la... Sì, devo dire che è veramente una spada molto bella, ha le proprie miei complimenti. Grazie.